Benvenuti a Umana Reier Venezia, Una Hotels a Reggio Emilia. Voglia di riscatto, voglia di alta classifica, voglia di svoltare dopo un fine settimana tribolato, sia per la squadra reierina, sia per l'Una Hotels. Reggio Emilia è una squadra seria, tanti giocatori buoni, giocano un attacco ottimo, i percentuali di tiri da tre sono alti, dunque devi giocare una difesa per vincere contro loro. Venezia è una squadra molto forte, credo che ha un alto potenziale, giocano con alta energia, sono molto ben organizzati, hanno un buon giocatore, quindi spero di essere un gioco buono. Cagolo Casarin che ha spazio e infila la prima tripla della sua serata. Vitali si ferma dalla media distanza, quasi perde il ritmo ma poi lo ritrova. Sims per Tessitori, zona problematica per Atkins, Tessitori ne approfitta e trova lo spazio. Wilthier è libero in angolo, la tripla la prende, la mette, arriva il canestro di Kyle Wilthier per il più sette umana, massimo vantaggio. Parks con un grande recupero, poi riesce a ribaltare in modo panoramico e preciso, Casarin dentro per Wilthier, anzi però Connell che svista per Kyle Wilthier, che mette una tripla che incendia il tagliercio. Ancora Briante e Weber, prova con grandissima velocità, accelerazione quasi da globetrotter di Briante e Weber. Fuglietti cerca la linea di fondo, altro buon lavoro difensivo per la Reier che va dentro, ancora con Casarin. Spissù, in angolo c'è Libertà per la tripla, presa, trovata ancora da Casarin. Parks riesce a cancellare il tentativo reggiano, parabola forse discendente, la Reier non sta lì a recriminare Granché e ad attendere le decisioni, va subito in contropiede, 5-4-3-1. Reggio Taker. Weber deve provare a inventare qualcosa da solo, chi viene allontanamento difficile. Che qualità, Briante Weber! Sì, dobbiamo continuare così, a difendere, a passarci la palla, a correre tutto il campo e continuiamo a giocare insieme. Weber che abbassa la testa, schivando letteralmente Atkins. Galloway dalla punta, dalla distanza siderale. La cede a Taker, pallone un po' complicato, Taker ha spazio per provare la tripla, in allontanamento su Atkins, a dir poco timido. Galloway, prende, spara, segna, grandissimo canestro di Langston Galloway. Di Reggio Emilia che si dimentica di Taker ai 7 metri, sbaglia Taker, rimbalzo di Wiltshire che se la trova in mano, nessuno l'ostacola. Atkins. Consegna a Galloway che si prende il tiro, lo va a sbagliare con un mezzo giro sul ferro, la carambola però lo premia, si aiuta con la tabella, Langston Galloway. Si va da Hervey, con la mano sinistra. Attende il momento giusto per scaricarla fuori, si va in punta da Sims, parabola altissima, e canestro. Ora si va di là, con Casarin che premia O'Connell. L'Umana Reier vince e si rilancia, e come se si rilancia, rimandato invece l'esame per l'Unautens a Reggio Emilia. Finisce 90 a 70, direi un punteggio che non ammette grosse repliche. Dopo due stop di fila, dobbiamo reagire in qualche modo, l'abbiamo fatto così, partendo subito, tosti, duri, correndo, difendendo, ed è merito dei miei compagni di squadra, questo non è uno sprint, è una maratona, bisogna continuare così, giocare il partito dopo la partita, come abbiamo fatto oggi. adesso continuiamo sull'area futbolista, in comprensione, ora la partita.